Inaugurata a Castrovillari la mostra delle immagini del libro Qui sono nato di Nicola Caracciolo, fotografo castrovillarese, allestita presso il Teatro Vittoria. Nicola, dal libro alla mostra il passo è stato breve, dove tu racconti i posti più belli di Castrovillari, i posti più particolari. Eh sì, racconto questi posti forse perché io da piccolo sono nato proprio nella Civita, dove io facevo l'asilo al protoconvento e non lo so se qualcosa mi lega a questa cosa e mi fa andare oggi, a distanza di tanti anni, mi fa andare a camminare in questi posti sconosciuti dai castrovillaresi. L'iniziativa, oltre a celebrare un bel lavoro di un castrovillarese doc, esalta e richiama l'energia dei luoghi ad essere oltre che ricchezza espressiva per riproporre immagini di memoria storica e non solo, anche eccellenti ambiti di relazione, nonché propulsori di promozione per la crescita sostenibile dei borghi antichi, la vera ricchezza del paese Italia, con tutto ciò che li consiste. Ho voluto fare solo un po' di paesaggi, forse qualcuno mi può dire perché sono vuoti senza persone, perché ho voluto di più raccontare la nostra bella centro storico che vale molto in confronto a tanti altri storici che sono nel nostro circontario. Senti, diciamo che la mostra resti in visione fino a quando? Fino al 6 gennaio e vi invito a venirla a vedere, solo così vi potete rendere conto di quello che è il nostro borgo di Castrovillari. Grazie.